Ciao ragazzi, oggi parleremo di Akuma, non c'è moltissimo da dire Just backdash, facciamo solamente, basta fare indietro indietro E basta, il video è finito, ciao ragazzi, alla prossima No dai, in realtà un po' di cose ci sono da dire, adesso andremo a vederle Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oggi parleremo finalmente di Akuma in Tekken 7 Un argomento di cui da tanto se ne discute Nerf, mica nerf, cosa fare, cosa non fare E oggi voglio darvi il mio parere su questo personaggio Cercare di spiegarvi il perché è sbagliato, cosa ha di sbagliato E soprattutto, dopo il Tokyo Master appena svoltosi Direi che è raggiunto il momento di farci un video a riguardo e discuterci Quindi, senza perdere altro tempo Adesso andremo in game e cercherò prima di tutto di farvi vedere il perché il PG è sbagliato Cosa ha di sbagliato E magari anche vedere cosa si può fare per provare a sistemarlo Quindi iniziamo subito Andiamo ad analizzare un attimino il personaggio per cercare di capire cosa c'è di sbagliato Perché ha delle cose sbagliate Cose che non c'entrano niente con il mondo di Tekken La prima cosa che voglio analizzare è il rialzo 2 di Akuma Io userò Josie E dall'altra parte adesso imposterò Akuma con le varie azioni che deve fare La prima mossa che voglio analizzare è il VS2 di Akuma Perché ho letto di quelle cose un pochino assurde Nel senso che ho letto di Eh ma hanno risposto male al VS2 Hanno scelto male Dovevano fare così Dovevano fare cosa Eh grazie al cazzo Dopo che ho visto cos'è successo So anch'io dire Eh avrebbe dovuto fare questo piuttosto che quello Il fatto che è Akuma che decide cosa fare dopo il VS2 Non siamo noi Quindi non è facile rispondere Perché non c'è una risposta che chiude tutto purtroppo Allora la prima situazione che sono andato a registrare è il VS2 di Akuma Into Demon Flip È la base Bisogna sapere cosa fare in questo caso Con Josie io faccio Calcio 4 E poi c'è la full combo A seconda del vostro personaggio potrebbe essere 1 Calcio 4 2 Comunque è abbastanza semplice Appena fa il VS2 si schiaccia La seconda soluzione che sono a registrare dal VS2 È la Duken Rosso E qui appunto Cambia un attimino la cosa Perché se noi andiamo a schiacciare Ci prendiamo la Duken Qualsiasi cosa andiamo a schiacciare La Duken fa una sorta di frame trap E ci prende in counter Quindi cosa succede? Che se noi schiacciamo perché pensiamo che fa il Demon Flip Lui fa a Duken Kansia addirittura ci fa full combo E moriamo Allora cosa succede? La Duken Rosso bisogna schivarlo Per punirlo E il Demon Flip invece bisogna schiacciare subito C'è una soluzione qui che è una sorta di pezza che si può mettere Che è questa Schivare e premere subito In pratica si pare al VS2 Si schiva e si preme subito La schivata deve essere un filo più profonda E deve essere sempre a destra Perché a sinistra ci prende Quindi schiviamo a destra E schiacciamo subito In caso di Demon Flip Lo prendiamo spesso e volentieri male Perché purtroppo è così Cioè se vogliamo chiudere le due scelte E non rischiare niente è così A volte può succedere che non lo colpiamo Però almeno limitiamo un pochino i danni Perché se noi schiviamo E aspettiamo di vedere che ha fatto la Duken Rosso per punirlo In questo modo Cosa succede? Che se lui fa il Demon Flip e schiaccia Perché ha altri tasti Adesso ho registrato solo col 3 Ma c'ha Demon Flip 1, Demon Flip 2 E ci colpisce Allora cosa succede? Non è che ammazziamo Akuma su questa cosa Perché non è che non ci tira più il VS2 Assolutamente Perché la Duken Rosso comunque glielo pugniamo con Calcio 4 E basta E non lo flottiamo bene Però se vogliamo flottarlo bene Quindi vogliamo premere subito Ci prendiamo la Duken Rosso in faccia E rischiamo veramente tanto Se invece vogliamo punire la Duken Rosso Dobbiamo fare schivata Guardare cosa succede E c'è anche il rischio che veniamo colpiti dal Demon Flip Vi faccio vedere anche con Kazuya Praticamente la stessa situazione Con Kazuya posso schivare e fare 1 Non posso schivare e fare Calcio 4 Perché il Calcio 4 di Kazuya è lento E mi prendo io il counter e muoio Il Calcio 4 entra solo così Quindi bene o male con qualsiasi personaggio Bisogna vedere i tasti da premere E la soluzione migliore come vi dicevo È quella di schivare a destra Schivata un po' Profonda per evitare la Duken Rosso Premere subito E una pezza si mette a questa cosa Il problema qual è? Giacomo può fare un'altra cosa Semplicissima Rialzo 2 e basta Quindi io schivo, premo E non gli faccio niente O se premo subito Questa è la punizione Quando invece Si scopre di parecchio Rialzo 2 di Akuma Quindi Io Per cercare di mettere una pezza Le varie soluzioni che ha Akuma Poi rischio di perdermi delle punizioni Di fargli pochissimo danno E monare della favola Che rialzo 2 Non dico che sia gratis Quindi ricapitolando Quando leggo Sento dire E no ma ha risposto male Dal VS2 parato È una cazzata Perché dipende da quello che ha fatto Akuma E noi possiamo scegliere Cosa fare dopo Ma non è detto che la nostra scelta Sarà quella corretta Perché per esempio Come vi ho fatto vedere nel video Come vi ho fatto vedere prima Dipende da quello che fa Akuma Noi possiamo scegliere La punizione massima Per provare a flottarlo O schivare E provare a lanciarlo sul lato rosso Ma dipende da quello che farà lui Quindi non esiste Il dire È sbaglia Non sa come affrontare Il VS2 di Akuma È appunto Una cavolata Perché non è così Non essendoci Una soluzione standard Che chiude tutte le scelte di Akuma E che non ci mette A rischio a noi Di nulla È sbagliato dire Non sanno giocare contro il VS2 di Akuma Detto questo Tutta questa pappardella Che vi ho fatto Parlando del VS2 Rendetevi conto È una mossa Che on block È scoperta E se fosse un personaggio Di Tekken Io paro un VS2 Come quello di Di Viljin Di Jin Di tutti i personaggi Che hanno un VS2 Che lancia In normal hit E lo punisco Fine della storia Invece qua Su una mossa scoperta Siccome ha la possibilità Di cancellarla In special Viene fuori il delirio È questo Che non va a vedere Il personaggio Cioè che delle meccaniche Standard di Tekken Che paro e punisco Per esempio Con lui Non funzionano Ora invece Andiamo a vedere Altre cose Sempre ovviamente Di Akuma Che Non vanno bene Cioè che Ha delle meccaniche Che non fanno parte Assolutamente Del gioco Che non hanno Gli altri RPG di Tekken E andiamo un attimino A vederle Allora Prima che vi faccio vedere Sono le Option Select Sulle normal In neutral game Cosa vuol dire È una meccanica Classica Di Picchiaduro 2D Che se io faccio Una normal E dentro Ci bufferizzo Una special La special Non parte Finché la normal Non ha colpito Questo a cosa serve? Serve Nel neutral game Quando siamo A determinate distanze Come questa Per esempio Come vedete Qui va a vuoto Per colpire La normal In questo caso Cioè per andare Unite Ci sarà bisogno Che il mio avversario Si sposta In avanti E Spostandosi in avanti Non potrà parare Quindi Se io Option Select Da queste distanze La normal Quando colpisce Sarà per forza Unite Questa cosa si può fare Anche quando lui Non ha le barre Perché per esempio Si può Option Select Sul tazzo Quindi Anche se non ha le barre Lui può fare Questa roba qua Tra l'altro È parecchio lungo Il 2 Però non è la mossa Più forte Per fare questa cosa Il 2 È la mossa Più forte Per fare Le punizioni Sulla madata vuoto Cioè quando noi Schiviamo Appena uno va vuoto Il 2 È assolutamente La mossa Più forte Di tutte Per fare La purga vuoto Con Akuma Assolutamente Ma per option Selectare È fortissimo Il G2 Perché È veloce E passa sotto Quindi quando ci vengono Addosso A contrasto Magari con un colpo alto Molto veloce Che può essere un calcio 4 Un elettrico Qualsiasi cosa Davvero un colpo Che passa sotto E che quindi colpirà Molto molto probabilmente E poterlo Option Selectare È tanti Fa tantissimo Cioè Pensate A un Devil Jin O un Mishima qualunque Che da un medio Un medio Che può essere un DF1 Un 2 Un G2 Un G1 Possa Option Selectarci dentro Un elettrico Cioè io sono qua Bello in Neutral Game Che gioco Faccio G1 Un elettrico Tu vedi avanti Ti prendi il G1 E ti prendi anche L'elettrico Ed esplodi Cioè sarebbe una roba Sgravatissima Rottissima Ecco Akuma ce l'ha Akuma questa roba qua Andiamo avanti Con un'altra cosa Che fa parte Delle meccaniche di Tekken E anche di altri giochi È il classico Check Quelli 1-1 Si fanno con i Mishima Si fa con Kazumi Si fa con tanti Personaggi Sono dei Check Questi si fa avanti E se i colpi Entrano Poi si Si confermano Come per Mishima Per esempio con la Flash 1-1 2 E anche con Kazumi Anche in altri giochi Ci sono in Mortal Kombat Tantissimi personaggi Hanno i Check Hanno i Check con i Jeb Se entrano Poi si Si confermano con la Special Amplificata Si lancia Eccetera Quindi non è una cosa strana Assurda Il problema è che In Tekken È limitata la cosa Akuma Quando fa il Check Con gli 1-1 Ci mette la Duke E ne fa la combo Se non ha niente Ci può mettere lo Show Anzi no Ci deve mettere il Tazzo Perché poi continua Cioè il suo Il suo Check Può essere la morte Allora noi andremo a vedere Proprio tutte 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 le cose Che ha il personaggio Ve ne ho fatte vedere alcune E adesso vi farò vedere Secondo me Quella più rotta Che ha in assoluto Che è peggio Del G3 Perché il G3 Seppure È sgravato È rotto Ha delle limitazioni È corto E da max range Non comba È un basso Si può fare l'opery Si può tirare un calcio volante E saltare Quindi ha Delle limitazioni Il G3 È rotto comunque Ma Un minimo di limitazione La cosa veramente Rottissima Che ha È il G1-2 Il G1-2 È una cosa Rottissima Non ha nessun PG Ed è Ed è la rottura Della rottura Perché È già fortissimo Avere un basso In counter Che lancia Cioè Non un basso Scusate Un colpo che passa sotto Veloce Che in counter Lancia È già fortissimo Di suo E lui ha già questo Che è Natural combo Che è cancellato È salvo Sta anche in vantaggio Non è salvo Addirittura Quindi già è fortissimo Così Lui non ha solamente Un colpo Veloce che passa sotto Che lancia È salvo Che sarebbe già Rotto Lui ha un Counter confirm Che è il G1-2 G1-2 È un counter confirm Ed è La rottura Della rottura E secondo me La cosa più rotta Che ha Akuma È proprio questa qua Cioè Il fatto di avere Un counter confirm Che passa sotto Non si regola Cioè Andrebbe assolutamente Tolta Cioè Io voglio Ti voglio Voglio entrare Devo giocarmi la roba Non posso avere Il counter confirm Cioè Non esiste Io me la devo giocare Almeno Se ha un block Butta via la barra E se non ha Le barre E si gioca il tazzo E lo pariamo È scoperto Ma avere il counter confirm Su questa roba qua Non Non si regola Non esiste proprio È la prima cosa Che gli devo togliere Al personaggio Allora Eccoci alle considerazioni Finali di questo video Nel video Vi ho fatto vedere Un po' di cose di Akuma Che secondo me Non vanno bene Le principali Diciamo Ce ne sono anche altri Per esempio Come le trappole Che ha Quando ci porta un muro Sui tech roll È vero Le hanno anche Gli altri personaggi Di Tekken Chi più forti Chi meno forti Però la sua È particolarmente forte Particolarmente Direi Sgravata Perché ci costringe A fare il tech roll Perché se stiamo a terra Ci resplatta Quindi È particolarmente forte La sua Forse unica Non penso che ci sono Altri personaggi Che se stai a terra Ti possono fare Resplatta Detto questo Dove bisognerebbe Cominciare a Lavorare sul personaggio Beh la prima cosa È palese Il danno Cioè il danno Sta fuori Da ogni logica Immaginabile Perché Non è normale In un picchiaduro Che Io Meno tutto il tempo Il mio avversario Che in questo caso È Akuma Quindi gli faccio Non so Due juggle Più anche una scelta dopo Cioè Lo meno veramente Per tutto il round Intanto che io lo meno Lui carica le barre Va in rage Entra una volta E mi ammazza Questa cosa è sbagliata Ma non è che è sbagliata In Tekken Non è che è sbagliata In Akuma Sarebbe sbagliata Per qualsiasi altro personaggio In qualsiasi altro picchiaduro Cioè è una cosa Che non deve esistere Se io ti ho menato Per tutto il round Non ci può essere Una meccanica Di comeback Così forte Da parte di Akuma Che può partire Dai colpi Che vi ho fatto vedere Nel video Cioè colpi assurdi Tipo il G1-2 Confirm Quindi da una roba Completamente salva Può partire il comeback E mi può ammazzare Non è giusto Ma assolutamente È una cosa proprio Sbagliatissima Quindi Il danno È la prima cosa Che io andrei a toccare Tocchiamo il danno Ok Vediamo com'è il personaggio Ma da qualche parte Bisogna iniziare a toccarlo Non si può lasciarlo così Cioè adesso Se contiamo l'anno di arcade È il quarto anno Che Akuma È così sgravato Cioè da quando è uscito Si lamentano tutti Cioè tutto il pianeta Ha sempre detto Ragazzi Il personaggio Ha il danno Che non si regola È troppo Cioè bisogna fare qualcosa Benissimo Siamo al quarto anno E il personaggio È ancora rotto Completamente sgravato E siamo arrivati al punto Che cominciano Ad usarlo Tante persone Perché prima C'era solo Super Akuma Adesso ci sta Kuiper anche in Europa Ci sanno i pakistani Ho visto anche Arsland Che è un po' di giorni Che continua ad usare Akuma C'era Ninja Che lo usava prima Akuma Chissà se adesso Prenderà in considerazione Di usarlo anche lui Quindi adesso Non è più Lo usa solamente uno Ci fa un po' di risultati Solamente uno Cioè siamo arrivati Al punto di un Tokyo Master Dove Top 3 3 PG Non di Tekken E questa cosa qui Per un fan di Tekken È la morte Completamente E Grand Final Fra due Akuma Quindi siamo arrivati Veramente ai punti Cioè al punto Che mi ricorda Tekken 5 Quando c'erano gli Steve Che arrivavano in finale E questa cosa qui Veramente Stiamo arrivando A quei livelli Poi un'altra cosa Che io farei al personaggio Evitare che dal VS2 Lui possa cancellare Cioè il VS2 È un launcher Launcher classico di Tekken Come vi ho detto Che hanno anche tanti altri personaggi Lui non ha bisogno Di fare il Demon Flip Per lanciare Fa VS2 Il VS2 lancia E poi c'ha la Juggle Come tutti Non ha senso Che lui lo possa cancellare E quindi mettere Pressione Fare gioco E mettermi in scelta Anche un block Me lo fai Come tutti gli altri personaggi VS2 Parato Tipurgo Stop Fine Anche perché Lui non ha bisogno Del VS2 Per fare il 50% Perché lui può fare Basso A Duke And Cancel Che è salvo O qualsiasi rialzo A Duke And Cancel Ed è salvo anche quello Quindi lui ha il 50% Della morte Che ti ammazza Completamente salvo Non ha bisogno Di giocarsi il VS2 Quindi Se tu Mi metti il VS2 Come mossa normale La userà su punizione Su un'eventuale Mandata a vuoto Che lui magari Ha recuperato basso Eccetera Non si mette più A spammarlo A tirarlo in bloc E mettermi in scelta Dopo il VS2 Parato E ovviamente Se mi metti il VS2 Che non si può più Cancellare Mi abbassi la scopertura Ovvio Non me la lasci Da lancer Mi fai la classica Scopertura Da 12 e 13 Ma mi fai un VS2 Normale Come gli altri personaggi Poi un altro Problemino Tra i piccoletti Di Akuma È il fatto Che lui possa cancellare In demon flip Da qualsiasi cosa Praticamente E non è che posso stare lì Tutto il round A guardare Ok mi tira un colpo Lo cancello in demon flip No io devo anche giocare Devo rispondere E non posso nemmeno Fare una risposta Unicamente Sul fatto che lui Possa cancellare Quella determinata mossa In demon flip Quindi arrivo al punto Di giocare di riflesso Di dover reagire Al demon flip Nel momento In cui lo fa E non diventa Tanto facile È ovvio Se gioco con un Akuma Che mi fa solamente Rialzo due Demon flip Meglio così Io premo sempre Lo flotto Massimo del danno E questo Akuma Si ammazza Si ammazza da solo In questa maniera Ma un Akuma decente Lo usa in modo intelligente Il demon flip E funziona Mi dà pressione Mi mette sotto scelta Mi tira un po' scemo E quindi diventa Già molto difficile Giocare contro Akuma Per questo motivo E poi c'è tutto il resto Che vi ho detto nel video Dai questa volta Siamo davvero giunti Alla fine del video E per concludere Voglio dire Che io non ce l'ho Assolutamente Con i quest Che hanno inserito In Tekken Akuma Geese Noctix Eccetera Non ce l'ho nemmeno Con chi usa Akuma Ce l'ho con chi Ha partorito Il personaggio In questa maniera Cioè che non lo ha Minimamente adattato Alle meccaniche di Tekken Anche perché Io sono un giocatore Di altri picchi a duro Fra cui anche Street Fighter Quindi inizialmente Ero anche contento Che avessero giunto Akuma Perché Effettivamente è un PG figo Come lo è anche Geese Il problema è Come lo hanno adattato Cioè che hanno preso Il personaggio Da Street Fighter 4 L'hanno buttato dentro Così a caso Senza Senza bilanciarlo Adattarlo alle meccaniche di Tekken Quindi questa cosa Non va bene E non mi piace assolutamente Neanche da vedere in Tekken Tra l'altro Tutte queste meccaniche Che hanno giunto a Tekken Di barre Cancel Super Special Eccetera Ma chi le voleva? Cioè Uno preferisce Tekken Probabilmente Perché non ha queste meccaniche Cioè se io voglio giocare A giochi dove ci sono i Cancel I Super I Special Così gioca ad altro Gioca Dragon Ball Gioca Street Fighter Gioca Mortal Kombat Ci sono tutti gli altri giochi Con queste meccaniche dentro Io preferisco Magari giocare a Tekken Proprio perché è privo Di queste meccaniche E detto questo Vi saluto Vi do appuntamento Ai prossimi video E un ciao Da vostro pazzi